Siamo con Pietro Zangheri, segretario dell'Ordine Geologi del Veneto e parliamo del progetto Italia Sicura. I geologi veneti lanciano un appello. È necessaria maggiore prevenzione? Sì, l'appello nasce proprio da questo. Siamo in un momento importante in cui ci sono una serie di iniziative, sia a livello nazionale che a livello regionale, che parlano di rischio geologico, parlano di mettere un po' in ordine il nostro territorio. Ecco, questo è molto importante ma purtroppo non basta. Bisogna che si prenda la strada anche della prevenzione in modo più deciso. Non basta mettere le pezze sul nostro territorio pur con progetti importanti e urgenti, ma bisogna ricominciare a ripensare il nostro territorio nell'ottica della prevenzione. Questo significa molte cose. Significa l'aspetto della pianificazione, dove questo aspetto della prevenzione delle tematiche geologiche sono più viste ancora come un impiccio che come un'occasione di crescita del territorio. Questo vuol dire anche avere dei progetti organici a livello regionale delle altre amministrazioni inseriti in un disegno più complessivo e che riqualifichino le nostre città, il nostro territorio. Una cosa che poteva avere ricadute interessanti non soltanto per la sicurezza del cittadino, ma anche da un punto di vista economico. Oggi anche nel Veneto uno dei principali ostacoli allo sviluppo economico, quindi al richiamo di investimento, il fatto che molte aree sono a rischio e quindi gli investimenti economici stessi fatti in alcune aree sarebbero a rischio. Ecco, il Veneto ha vissuto negli ultimi anni piuttosto pesantemente il problema del rischio geologico, sia in montagna con tutta una serie di episodi franosi, non c'è solo Refrontolo o altri episodi che sono andati sui giornali, sia in pianura con problemi di allagamenti, di innalzamenti delle falde in aree abitate e così via. Quindi il Veneto conosce bene questi problemi. Benissimo, finalmente si sta intervenendo su questo, grazie a Italia Sicura, grazie ad altre iniziative. Ecco, non dimentichiamo però l'importanza di inserire tutto questo in un'ottica di prevenzione, e quindi di strutturare gli interventi proprio in un'ottica di prevenzione.